Siamo con Morris Vailatti, tra i volti nuovi di questo atletico Raconigi, ovviamente il primo aspetto che cosa ti ha spinto a scegliere e dire di sì alla chiamata racconigese? Niente, sono già un po' di anni che parlavo, poi quest'anno sono stato convinto dal progetto e mi è sembrato un progetto abbastanza giusto, dovute anche alle mie esigenze e ho trovato una bella squadra, una bella organizzazione e ho accettato e ho fatto sì che io venissi qua. Arrivi ovviamente da una stagione esaltante con il CSF Carmagnola, dove avete raggiunto l'eccellenza, ovviamente tra questi protagonisti ci sei stato anche tu. Sì, dai, sono stato anche io protagonista della stagione appena passata e poi come sempre io dico che il gruppo è la cosa più importante e ha esaltato anche le mie qualità e la mia persona. Senti, cosa ti ha colpito in questi primi giorni di lavoro dal duo Pisano-Boscolo, ma soprattutto dalla voglia di un ambiente di rivincita dopo quella che è stata la retrocessione della passata stagione? Guarda, io ti posso dire che io sono arrivato da pochi giorni, ho fatto due allenamenti, però ho visto competenza e voglia di fare bene. Secondo te cosa può fare questa tentativa con Ige? Io spero il meglio possibile, però la squadra secondo me è molto buona, sono dei giocatori molto importanti e spero veramente che facciamo bene, cioè io sono venuto qua per vincere il campionato.